Daniele cosa ne pensi del pianto? Bella domanda. Dipende dal tipo di pianto, dipende dal tipo di pianto perché tu puoi piangere per tristezza, puoi piangere per emozione, puoi piangere per allegria, puoi piangere in maniere diverse. Tra l'altro se non ricordo male, anche le lacrime vengono fuori da condotti diversi in base al tipo di pianto, però potrei dire una cazzata perché ci sono dei pianti che vengono da qui e dei pianti che vengono da qui, però dovrei verificarla, non la ricordo questa cosa. Io sono una persona che se si emoziona piange. Difficile che mi emozioni con gli umani, ma con gli animali o con la natura assolutamente sì. Per cui il pianto può essere uno sfogo? Perché no? Io ti direi di non trattenerlo, perché un pianto trattenuto come tutto ciò che viene trattenuto e represso non fa bene. Poi ci sono tutte quelle menate che dicono se sei cresciuto in una determinata zona, ti dicono eh no, gli uomini non devono piangere perché è simbolo di debolezza. Andò sta scritto sta stronzata? Cioè, le emozioni sono emozioni, trattenere le emozioni non è sano, come trattenere qualunque cosa non è sano. Quindi se sentite di piangere fatelo, se vi volete emozionare fatelo, perché dovete trattenervi? E' come se l'altra persona, o gli animali ad esempio, non lo capissero. Lo capiscono tranquillamente. Perché dovete dare l'immagine di essere forti, fighi, o di essere tutti di un pezzo, eccetera? Ma, una cazzata, perché tanto comunque state dando un'immagine che è una... che è una... che è una... un'armatura. Quindi è finta comunque. Quindi torniamo sempre al suo discorso. Cerchiamo di essere veri quanto più possibile. Io sono così, se ti va bene, bene, sennò sti cazzi. Torniamo sempre... alla fine si finisce sempre su sti cazzi. Non so se vi siete resi conto, eh. Cioè, di base è quello. Mi emoziono davanti a... che ne so, una farfalla che viene fuori dalla sua crisalide e mi scendono le lacrime. Ok, e quindi? C'ho paura che qualcuno vicino a me dice, ah, questo qui non è sicuro, questo non è un leader. Ma sti cazzi, se soltanto pensi così te ne puoi pure andare... che me frega. Qual è il problema? Capite? Quindi, se devi piangere, piangi. Non... piangi per il bello, piangi per il brutto, piangi per quello che è. Piangi come ridi, come... come non trattenere nessuna emozione. Come non trattenere nessuna emozione. Poi è ovvio che se hai una tristezza di fondo che ti fa piangere costantemente, magari ragionaci un attimo su e cerca di comprendere quali sono i messaggi, quali sono le cose da fare e tutto ciò che potrebbe renderti una vita un po' più felice piuttosto che di pianto... di pianto negativo. Perché rendiamo... trasformiamo la vita di pianto positivo. Va benissimo emozionarsi, anzi, cavolo, i momenti più emozionati sono quelli che davvero ti fanno... Se ci pensate, le lacrime agli occhi scendono o quando piangete che state male o quando ridete che vi crepate in due dalle risate. Sto piangendo dalle risate. Così come sto piangendo dalla tristezza. È simpatico come i due opposti hanno lo stesso effetto, fanno piangere. È particolare questa cosa. Piangi per noi. Eh ma mi dovreste far piangere. È difficile. È difficile perché... un umano è difficile che mi faccia piangere. Un animale sì. Un animale più probabile. Un animale... La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescono, di come imparano. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere, di come crescere, di come crescere, di come crescere, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. La magia degli animali, dei cuccioli, di come crescere. Grazie a tutti.